per niente buono qui ragazzi siamo andati male malissimo ma bisogna tornare indietro oddio oddio come cazzo ho fatto a stare in piedi guarda qua guarda come cazzo si è scavato qua dio buono tutto a posto ora si emoziona guardalo grandissimo grandissimo state sulla destra qui sento qua comunque quella cazzo di curva ogni volta che la faccio è diversa stiamo 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 Grazie a tutti.